Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV. Come potete vedere qua c'è una formazione di coniglietti della Kinder e qua c'è un ovetto della Benchi. Perché vi faccio vedere queste cose? Perché con quello che regalerò questa Pasqua voglio augurare a tutti quanti voi una buona e serena Pasqua, che questa Pasqua, questa resurrezione vi possa portare tanta serenità, tanta tranquillità. Cercate di godervi queste feste, di passarle in famiglia, di passarle con gli amici, di passarle, vi auguro soprattutto in salute e qualora qualcuno di voi non dovesse stare bene, che si possa riprendere al più presto. Sono 1, 2, 3 coniglietti azzurri della Kinder, questo è il fratello della mia ragazza, questo per i cugini e questo per la fidanzata della ragazza. Ovviamente la mia ragazza ha un trattamento speciale, infatti per lei c'è l'uovo della collezione della Benchi, il nocciolato. Ragazzi con questa bellissima formazione di cioccolata pasquale vi saluto, vi faccio ancora tanti auguri di buona Pasqua e noi ci vediamo al prossimo video. iscriviti al nostro canale